Chi è lui? Chi è lei? Dove abita lui? Dove abita lei? Lei è una cowgirl. Lei abita in America. Lui è Babbo Natale in Vespa. Babbo Natale abita al Polo Nord. Lei è una geisha. Lei abita in Giappone. Lui è un gondoliere. Abita a Venezia. Venezia. Lei è Nefertiti. Lei è una regina. Lei abita in Egitto. Lui è il Papa. Papa Francesco. Lui abita a Roma. Il pizzaiolo. Il pizzaiolo abita a Napoli. I napoletani hanno inventato la pizza. La regina Elisabetta. Lei abita a Londra. Lei abita in Inghilterra. Lui è un samurai. Anche lui abita in Giappone. Lui è giapponese.